Musica Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale è arrivata nel pomeriggio la conferma della semilibertà per Marino Chipinti uno dei componenti della banda della Uno Bianca condannato all'ergastolo per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari una notizia che giunge come una doccia fredda per i familiari delle vittime ma di cui si parlava già da tempo la reazione dei parenti nel servizio di Simone Aiannes Da funesto presagio oggi è diventata purtroppo una triste e sconcertante realtà Marino Chipinti, uno dei componenti della Uno Bianca che ha condannato all'ergastolo ha ottenuto la semilibertà dal Tribunale di Sorveglianza di Venezia L'ordinanza è stata depositata dopo che è stata emessa in Camera di Consiglio Chipinti che faceva parte della banda era stato condannato per l'omicidio della guardia giurata Carlo Beccari compiuto durante un assalto ad un furgone portavalori davanti alla Cop di Casalecchio di Reno il 19 febbraio del 1988 l'omicida ex poliziotto in servizio alla squadra mobile di Bologna in carcere dal 1994 a Padova ed ha già usufruito di un permesso premio nel 2010 che aveva suscitato non poche polemiche dura e risentita la reazione dell'Associazione Familiari delle Vittime della Uno Bianca Siamo molto mareggiati, ho sentito anche qualche mio associato non ce l'aspettavamo cioè, tra virgolette, ricordiamoci sempre che Marino Chipinti ha l'ergastolo in tre gradi di giudizio in tre gradi di giudizio ha avuto l'ergastolo dopo 17 anni che questo chiede il permesso e glielo danno di semilibertà, siamo un po' perplessi Lei ha detto prima, siamo fuori dalla grazia di Dio in che senso? Siamo arrabbiati siamo arrabbiati perché non ci sembra giusto ecco, non... io capisco che lui sia un detenuto modello ma è un carcere, si può fare questo e nient'altro cioè non... che si sia pentito, lo capisco anche ma non si uccide una persona, poi ci si pente però è così, insomma, è andata così e ne prendiamo atto e è indubbio che adesso vedremo cosa possiamo fare il direttivo si riunirà poi vedremo cosa possiamo fare scrivere una lettera anche al ministro di adesso e vedere cosa possiamo fare ultima pagina questa mattina i tassisti bolognesi hanno manifestato in Piazza Maggiore e in Piazza Nettuno contro la liberalizzazione annunciata dal governo Monti il rilascio di nuove licenze rischia di dare il colpo di grazie ad un settore già in difficoltà servizio di Massimo Ricci Piazza Maggiore e Piazza Nettuno gremite di auto bianche e di macchine blu per la protesta di oggi dei taxisti sono circa 700 i taxi a Bologna 300 le auto blu ma tutti per dire no alle liberalizzazioni proposte dal governo Monti non è certamente a vantaggio dell'utenza in quanto si deregolamenterebbe completamente un settore dove invece le municipalità hanno completamente la situazione in mano quello che stanno chiedendo non è aumentare il numero dei taxi è togliere le licenze di proprietà nostre dalle in mano alle grosse cooperative per prendere tutti i dipendenti estracomunitari e non sottopagati sotto di loro perché se ci fosse veramente la richiesta di un numero più elevato di taxi il comune ha già il potere di farlo perciò questa è solo una strumentalizzazione per dare tutto in mano alle grosse cooperative Bologna è una delle poche realtà se non l'unica in Italia in cui c'è veramente concorrenza tra taxi e noleggio quindi se venisse nel resto d'Italia usato il nostro sistema avremmo veramente la concorrenza senza aver bisogno di stravolgere niente perché meno male ognuno di noi ha fatto un investimento grosso qui ci abbiamo messo la nostra vita ci stiamo mettendo la nostra vita i nostri soldi è quello che è il mantenimento delle nostre famiglie questo governo continua a parlare di concertazione di incontri però questi incontri in questo momento non ci sono quindi noi siamo qui soprattutto per chiedere l'apertura di un confronto perché abbiamo delle proposte da fare credo che siano proposte abbastanza serie soprattutto sono delle proposte che salvaguardando gli investimenti fatti all'interno della categoria riescano soprattutto a dare dei vantaggi all'utenza vogliamo discutere di questioni come il prezzo dei servizi e vogliamo discutere dell'accesso alla professione dobbiamo farlo salvaguardando però sia la professione sia il nostro mercato sia i servizi e la qualità che diamo all'utenza e delle licenze per i taxi a Bologna ha parlato oggi anche la politica che si è confrontata sull'opportunità di liberalizzarle vediamo ancora Massimo Ricci le circa 300 vetture tra taxi e auto blu presenti in piazza maggiore a suggellare il successo della protesta chiamano in causa il mondo della politica bolognese sia quella che a Roma sostiene il governo Monti che quella che adesso si oppone la consigliera regionale dell'Udc Silvia Noè ha l'impressione che il numero di taxi in città sia sufficiente anzi potrebbe essere superiore alla domanda e allora dice se fare delle liberalizzazioni significa pregiudicare la tenuta di un servizio che funziona io rimango perplessa per la vendoliana di Sinistra Ecologia e Libertà a Ketila Torre invece il problema principale dei taxi non è tanto quello del numero delle licenze ma il fatto che siano nominali e monetizzabili secondo Roberto Flaiani coordinatore provinciale di Futuro e Libertà i tassisti non devono diventare capro espiatorio di tutte le mancate liberalizzazioni il governo Monti sappia evitare un inutile stravolgimento delle condizioni di lavoro di migliaia di artigiani all'opposizione sia a Roma che a Bologna invece la Lega Nord si schiera apertamente con i tassisti ha presentato un ordine del giorno sul tema poi bocciato in consiglio comunale dalla maggioranza i consiglieri Bernardini e Scarano parlano di scelta assurda del governo Monti che mette a rischio la sopravvivenza di posti di lavoro e famiglie e segnalano il problema della concorrenza sleale di molti operatori abusivi presenti sul territorio bolognese favorevole ad aumentare le licenze infine la vice sindaco Silvia Giannini anche se dice di parlare da semplice economista io posso dire come economista che le liberalizzazioni sono in generale un beneficio per la concorrenza economica perché le liberalizzazioni solitamente riducono i costi e quindi vanno a vantaggio dei cittadini e anche il PDL si schiera con i tassisti esprimendo il suo no alla liberalizzazione delle licenze portano solo ad un impoverimento della qualità del servizio offerto e di chi lo esercita sostiene Marco Lisei capogruppo del PDL al Comune di Bologna l'ultima pagina la Procura di Bologna indaga sul caso Lombardelli e ha chiesto al Comune una relazione sulla sua nomina a capo di gabinetto si tratta di doverosi accertamenti senza ipotesi di reato afferma il procuratore aggiunto Walter Giovannini vediamo interessa anche alla Procura di Bologna la nomina a capo di gabinetto di Marco Lombardelli sul caso sollevato alcune settimane fa dall'ex assessore Antonio Morosi su affari italiani e seguito da una bufera di polemiche tanto da portare Lombardelli alle dimissioni è stato aperto in Procura un fascicolo conoscitivo circa due settimane fa i magistrati vogliono capire meglio come siano andate le cose e per questo una decina di giorni fa hanno chiesto una relazione al segretario generale del Comune chiedendo delucidazioni sulla nomina dell'escapo di gabinetto e sulle sue dimissioni tra le richieste di piazza Trento e Trieste poi c'è anche quella di conoscere gli esiti a cui siano giunti o giungeranno gli accertamenti interni svolti da Palazzo da Cursio sulla vicenda si tratta di doverosi accertamenti senza ipotesi di reato afferma il procuratore aggiunto Walter Giovannini per il momento in Procura i PM attendono di leggere le carte che il Comune invierà a loro poi i magistrati decideranno come muoversi e non è escluso che pensino di ascoltare lo stesso Lombardelli il fascicolo che senza indagati e senza ipotesi di reato confluirà probabilmente nel precedente fascicolo aperto in Procura su un altro caso segnalato da Amorosi sul suo blog quello sul concorso per dirigenti che l'ex assessore ha ditò come deciso a tavolino dal Comune intanto venerdì a Palazzo da Cursio proprio sull'argomento Lombardelli è in programma una commissione consigliare chiesta da Lega Nord e Movimento 5 Stelle le forze politiche che sulla presunta irregolarità dell'inchiarico hanno fatto ricorso alla Corte dei Conti dopo le dimissioni ipotizzando danni erariali potrebbe essere lunedì prossimo il giorno del conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna ad Anna Maria Cancellieri a rilanciare l'iter per il riconoscimento al ministro dell'interno che dopo le dimissioni di Flavio Del Bono ha guidato come commissario la città per 15 mesi fino a maggio 2011 è stata la presidente del Consiglio Comunale Simona Lembi depositando un ordine del giorno ad hoc auspicando la condivisione di tutte le forze politiche la Lega se ci sarà l'unanimità di tutti noi consiglieri certamente non si opporrà ma poi si passi alle questioni prioritarie per la vita dei cittadini bolognesi che non sono ancora nell'agenda della Giunta dice la consigliera comunale Mirca Cocconcelli mentre il PDL Daniele Carella ha definito un onore poter conferire la cittadinanza alla cancellieri ma ha anche sbagliato il metodo utilizzato per farlo nel testo dell'ordine del giorno si legge che non è mai venuto a mancare un essenziale momento di confronto tra il commissario e la collettività amministrata con l'intento di assicurare il buon funzionamento dell'ente nell'interesse prioritario di Bologna e dei suoi abitanti e torniamo a parlare del crack Parmalat Calisto Tanzi visibilmente dimagrito e attualmente detenuto nel carcere di Parma è arrivato poco prima delle 10 in aula in corte d'appello a Bologna per il processo di secondo grado intorno alle 11.30 però c'è stata un'interruzione di 10 minuti a causa di un lieve malore accusato da Tanzi che è seduto e parso flettere il capo in avanti l'imputato è uscito dall'aula accompagnato dagli agenti che lo hanno aiutato a camminare ed è tornato in aula dopo 10 minuti i difensori hanno spiegato di avere presentato una nuova istanza per ottenere gli arresti domiciliari per il loro assistito ma che sarà discussa solo a marzo abbiamo timore per la sua vita a causa del regime carcerario hanno detto i difensori di Calisto Tanzi che poi ha lasciato l'aula della corte d'appello di Bologna mezzogiorno e mezza per fare rientro in carcere è cominciata questa mattina la discussione sul bilancio del comune di Bologna ne ha parlato in commissione la vice sindaco con delega al bilancio Silvia Giannini vediamo l'intervista ecco vice sindaco Giannini oggi si può dire che comincia il percorso che porterà poi all'approvazione del bilancio ci può dare qualche anticipazione c'era un aumento delle tasse? diciamo che il percorso inizia da domani perché inizieremo da domani a discutere in giunta questa prima giornata in commissione ha lo scopo soprattutto se avremo tempo di discuterne di spiegare ai cittadini perché questo è un aspetto molto importante quali sono gli effetti delle quattro manovre che si sono susseguite da quest'estate fino ad ora di cui l'ultima è quella del cosiddetto decreto salvo Italia del governo Monti in particolare per quanto riguarda la nuova imposta IMU che è stata anticipata al 2012 è importante sottolineare il fatto che tutto l'extragettito che deriva da questa imposta di fatto in modo diretto o indiretto è sterilizzato dallo Stato quindi non va a beneficio dei comuni ovvero l'extragettito calcolato ad aliquota base che è l'aliquota del 4 per mille sulla prima abitazione del 7,6 per mille su tutti gli altri immobili è un extragettito che direttamente o indirettamente tramite riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio andrà a ridurre i conti pubblici nazionali quindi andrà a beneficio dello Stato e non dei comuni quindi per trovare i soldi come farete? inizieremo domani in giunta a discuterne qualche anticipazione che ci può fare su questo? è importante che su questo ci sia una discussione in giunta e quindi vi terremo informati mano a mano che la giunta procederà su questo poi inizieremo il percorso di confronto con le forze sociali i sindacati, con i quartieri e quindi sarà un percorso su cui avremo modo di discutere e di informare i cittadini perché riteniamo che questo sia molto importante ci saranno comunque molti tagli per i servizi sociali? no, noi vogliamo assolutamente garantire i servizi del welfare che sono molto importanti in questa città e vogliamo anche migliorare la manutenzione di questa città quindi ci impegneremo a fare tutto ciò che può essere fatto per migliorare sia i servizi mantenere i servizi e migliorare la manutenzione della città è chiaro che serve un senso di responsabilità da parte di tutti perché come sappiamo la situazione del paese è una situazione difficile ma io confido che le misure che il governo Monti ha già intrapreso e quelle che intraprenderà riusciranno a portare questo paese fuori dalle difficoltà in cui si trova sono stati accerchiati da un gruppetto di ragazzini che apparentemente senza motivi si sono accaniti con caschi e cinghie contro la loro auto che stava transitando tra via Andracosta e il cimitero della Certosa la prima periferia di Bologna a chiamare il 113 domenica poco dopo mezzanotte è stato un ventenne bolognese mentre si trovava a bordo della sua auto in compagnia di amici era stato aggredito da sei giovani che hanno invaso la carreggiata dopo aver invito al loro indirizzo li ha visti accanirsi contro la vettura poco dopo in tre sono fuggiti uno ha tentato di attraversare nuoto il canale che scorre accanto al cimitero ma ha desistito addosso aveva droga e 120 euro in contanti per lui è scattata una denuncia per spaccio furto aggravato e danneggiamento mentre gli altri due bolognesi di 17 e 16 anni sono stati denunciati per danneggiamento aggravato in concorso il gruppetto ha respinto le accuse intanto sul raid proseguono le indagini ancora cronaca camminava in via Rivareno ieri sera impugnando una sciabola katana bologna giapponese per fortuna ancora nel fodero ma i carabinieri insospettiti lo hanno asseguito a distanza per un po' e quando hanno avuto certezza che si trattasse proprio di una di quelle sciabole rese famose dai film sui samurai lo hanno fermato e sottoposto a controllo si trattava di un 29enne pizzaiolo bolognese il quale ha candidamente ammesso che la stava trasportando presso l'esercizio commerciale dove lavora i carabinieri dopo avergli sequestrato l'arma di libera vendita con lama non affilata ma comunque estremamente pericolosa se utilizzata con cattive intenzioni lo hanno infatti denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi ed oggetti atti ad offendere ci fermiamo per un attimo e poi saremo di nuovo in studio con ETG a tra poco di nuovo in studio con ETG diamo un'occhiata ai titoli prima di andare avanti con il nostro giornale confermata la semilibertà per Marino Chipinti componente dell'anno bianca condannata alla rialzolo per l'amicizio della guardia giurata Carlo Becchiari i parenti delle vittime siamo fuori dalla grazia di Dio centinaia fra taxi e autoblu invadono pacificamente Piazza Maggiore e Piazza Nettuno per protestare contro le liberalizzazioni del governo Monti aumentare le licenze e dicono i tassisti servirà solo a diminuire i posti di lavoro la procura di Bologna indaga sul caso Lombardelli e chiede al comune una relazione sulla nomina a capo di gabinetto si tratta di doverosi accertamenti senza ipotesi di reato dice il procuratore aggiunto Walter Giovannini potrebbe essere lunedì prossimo il giorno del conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna il ministro dell'interno Anna Maria Cancelliere il presidente del consiglio comunale Simona Lembi deposita un ordine del giorno ad hoc sul palcoscenico dell'Arena del Sole la prima nazionale da domani fino a venerdì e 60 battiti portato in scena dai giovani attori della compagnia della quarta andiamo avanti con il giornale parliamo di calcio il Bologna parte nel 2012 con una vittoria importante contro il Catania adesso atteso in trasferta a Napoli la trasferta di Napoli che si giocherà in posticipo lunedì prossimo alle 20.45 il servizio di Sabrina Orlandi meglio di così l'anno non poteva cominciare subito tre punti una vittoria di grande valore una gara in cui non si è subito gol e neppure si è rischiato tanto il Bologna ne ha segnati due tanto è bastato per aumentare considerevolmente il divario tra sé e la zona retrocessione ben sei punti insomma la sosta ha fatto bene il piglio era quello giusto la concentrazione pure e anche le strategie tattiche di Pioli si sono rivelate azzeccate ieri il Bologna ha giocato con la difesa a tre e con i due attaccanti la squadra ha girato bene anche con le nuove modifiche in realtà davanti si è tornati alle due punte solo perché Ramirez non era al meglio altrimenti oggi sarebbe impossibile pensare di lasciare in panchina uno tra il Nigno e Diamanti mentre davanti Divai e Acquafresca ieri hanno dimostrato che la convivenza è comunque difficoltosa diverso il discorso per il centrocampo Pioli ha cambiato assetto fondamentalmente per permettere a Mudingai e Perez di coesistere essendo entrambi centrali non voleva sacrificarne uno fuori ruolo o addirittura farli giocare in alternativa come è successo fin qui così con il centrocampo a quattro ognuno al suo posto e tutti contenti forse anche i difensori che hanno giocato nel loro ruolo naturale vale per Raggi ma anche per Cherubin e così ieri il centrocampo è stata la forza trainante della squadra e i due mastini lì in mezzo sono stati impeccabili applausi per Nicolò Cherubin difensore che si stava un po' smarrendo doveva essere il suo anno vista la partenza di Britos invece nelle gerarchie era scivolato addirittura dietro a Loria ma ieri ha dato prova di essere tornato affidabile e poi il gol da centroavanti puro che vale tre punti quello di Divaio nel recupero ha solo evitato di soffrire sino alla fine anche se di sofferenza non si può parlare visto che Gilles in 90 minuti ha compiuto una sola parata e così manca solo Antonson all'appello dei marcatori gli altri difensori in gol sono andati tutti e siamo al teatro con un gennaio ricco di appuntamenti anche all'Arena del Sole dove arriva una prima nazionale da domani fino a venerdì si tratta di 60 battiti portato in scena dai giovanatori della Compagnia della Quarta andiamo a vedere con palcoscenico in all'Arena del Sole di Bologna con Bruno Damini il direttore della comunicazione alle mie spalle un palcoscenico dove stanno lavorando per una delle tante rappresentazioni noi continuiamo con il nostro cartellone parliamo ancora di una prima nazionale all'Arena del Sole in uno specifico al teatro delle Moline dal 10 al 13 gennaio arrivano 60 battiti questa volta in collaborazione con l'Arena del Sole si è la Compagnia della Quarta un gruppo rivelazione della ricerca bolognese un gruppo che si è già affermato per le forti novità che è riuscito a portare questo spettacolo ci parla di quattro personaggi che sono alla ricerca di un lavoro ma sono anche alla ricerca di se stessi sono quattro soggetti che per ritrovare se stessi e salvare la propria dignità e la propria libertà si mettono alla ricerca di quindi non solo di lavoro lavoro inteso anche come possibilità di avere un'identità vera nel tessuto sociale ed ora una breve pausa e poi saremo di nuovo in studio a tra poco di nuovo in studio con ETG non ci sono aggiornamenti dell'ultima ora siamo in chiusura andiamo a rivedere ancora una volta i fatti principali della giornata confermata la semilibertà per Marino Chipinti componente della Uno Bianca condannato all'ergastolo per l'amicidio della guardia giurata Carlo Beccari parenti delle vittime siamo fuori dalla grazia di Dio centinaia fra taxi e auto blu invadono pacificamente a Piazza Maggiore e Piazza Nettuno per protestare contro le liberalizzazioni del governo Monti aumentare le licenze e dicono i tassisti servirà solo a diminuire i posti di lavoro la procura di Bologna indaga sul caso Lombardelle e chiede al comune una relazione sulla nomina a capo di gabinetto si tratta di doverosi accertamenti senza ipotesi di reato dice il procuratore aggiunto Walter Giovannini potrebbe essere lunedì prossimo il giorno del conferimento della cittadinanza onoraria di Bologna al ministro dell'interno Maria Cancellieri il presidente del consiglio comunale Simone Alembi deposita un ordine del giorno ad hoc sul palcoscenico dell'Arena del Sol una prima nazionale da domani fino a venerdì e 60 battiti portati in scena dai giovani attori della compagnia della quarta ed è tutto con questa edizione del nostro giornale grazie per essere stati con noi tutti voi una buona serata arrivederci a ciao Autore dei sorrisi